Buongiorno, cosa stai mangiando? Facciamo i denti, anche oggi i denti. Cosa stai mangiando? Che cioccolato è? Un cioccolato bianco. E di chi è? Di chi era? Allora, c'è il dottor Palmas che ruba i cioccolatini ai bambini. Questo è il macchinario dell'anestesia, ci è arrivato direttamente da lì. E adesso lo spaccano, guardiamoli i ferici. Guardate Giovanni che sembra Rambo. Che scorre già e si spacca. C'è appena arrivato l'appartamento di Corado. Ragione. L'appartamento di Corado. Tu che vuoi? Oh, sono tutti che filmano qua. Cioè praticamente come è arrivata fra poco la porteranno indietro. Questo si chiama Torno. Non rubatemi la bicicletta. E voilà. Mi è uscito un punto nero qua sul naso. Lo stai appena facendo vedere a tutti. Ma io posso portarmi questo a casa? Ma questo me lo posso portare a casa? Dove andate? Dove andate? Dove andate? La giornata sta per finire però abbiamo ancora la clinica delle persone, la Paola che sta andando a casa. Ciao ciao. L'Anna che sta lavorando. Cosa stai facendo, Annes? Sto cercando una foto. Le hai perso. Le hai perso, eh? Allora c'è Tatiana che sta vagabondando qui vicino ai dolci. Sono le 8 di sera, sono le 8 di sera c'è fame. Tanta fame. Certo, certo, grazie. Io sono a dieta quindi non posso toccare nulla. Certo, aspetta, eccolo, eccolo. Prenda! Dai! Li facciamo sciacquare dopo. Venga lei a mangiare. Allora, questo qua è dolce. Questo è salato. C'è sia che con il formaggio di capra e con le patate. Com'è? Buona. Buona? Neanche. Quando si muore di fame è buona tutto. E tu? Non vieni a mangiare? Porta per piacere le tue belle gambette vicino alla sedia e al tavolo. Vicka, vicka, prendete da mangiare. Ciao. Grazie. Abbiamo la Elena che ci ha rubato le placente. Basta! Eccola, eccola. Dai! No, no, ti ringrazio, è morbido questo. Morbido? Sì. Come si trova da noi? Benissimo. Basta! No, noi... Vi che anche per una volta c'è. Vicka, eccola, eccola, eccola. Vicka, eccola, eccola, eccola. Grazie a tutti. La direzione è stupenda, Parma c'è una persona eccezionale, siete tutte delle bravissime, tutti i professionisti, ognuno nel suo ruolo, cominciando dalle donne di pulizia che sono eccezionate, sono bravissime, hanno tanta pazienza, l'igiene è stupenda, che altro devo dire? Niente, la ringrazio. Buongiorno. Cosa state facendo qui? Stiamo vedendo finanziariamente se riusciamo a fare il monipido, perché se no non mi curano. Ecco, stimolavi. Allora, questa è la lista delle persone di questo mese. È un po' tranquillo, c'è di gente però poca. E andiamo a fare il regalo, a comprarlo. Insomma, andiamo a comprare il regalo per Dottor Palmas. La mulți anni, da cine se trăiască, da cine se trăiască, la mulți anni. La mulți anni, da cine se trăiască, coraggio se trăiască, la mulți anni. La mulți anni, da cine se trăiască, coraggio. La mulți anni, da cine se trăiască. Grazie a tutti.